6 milioni e mezzo di italiani, uomini e donne, del nord, del centro e del sud, giovani e anziani. Sono un vero esercito di pace e di solidarietà. Sono i volontari, l'Italia migliore. L'Italia ha una grande ricchezza, spesso non abbastanza valorizzata, è una ricchezza che non si conteggia nel PIL ma che si avverte concretamente ovunque ci sia marginalità, povertà, sofferenza. Dove c'è sete di conoscenza, di educazione e di bellezza. Dove c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, dove ci sono persone sole o abbandonate. Circa il 60% svolge la sua attività in associazioni o movimenti. Gli altri fanno i volontari a titolo personale. Ogni settimana donano in media 5 ore del loro tempo agli altri. Esercitano la loro opera a titolo gratuito. Si occupano di tutti i settori, l'assistenza, la protezione civile, l'ambiente, la formazione, la cultura, la cooperazione internazionale. Operano in Italia ma anche all'estero. I volontari partecipano in modo determinante alla costruzione della comunità nazionale, ispirati dai valori costituzionali di pace, solidarietà, servizio, gratuità. Senza di loro l'Italia sarebbe più debole e meno coesa. Senza di loro gli italiani sarebbero più poveri e più soli. Per questo la festa del volontariato è la festa di tutti gli italiani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.